Una novità che rappresentano quanto sia la nostra azienda attenta ai temi dell'ecologia e della salvaguardia dell'ambiente. Sono veicoli totalmente elettrici con una sonorità praticamente pari a zero, con un'autonomia di marcia di 35 km che devono comprendere l'andata e il ritorno del portalettere che esce in gita. Tenendo conto che le altimetrie incidono su un diverso consumo delle batterie, è chiaro che scegliere dei territori che sono leggermente più pianeggianti consente di ottimizzare l'autonomia del veicolo stesso. E la nostra città da questo punto di vista, in base alle frazioni toponomassiche e geografiche che abbiamo come zona di recapito, ci consente assolutamente di fare questo ottimizzando appieno la capacità del veicolo stesso.